Oh fratelli rossoneri e amici rivali di youtube, buonasera 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 E adesso ci sono un po' di problemi nella ciurma Adesso i delinquenti, quelli che hanno fatto parte di cose che non fan bene al calcio Ma soprattutto che si sono arricchite nel nome di qualcosa che invece non era come loro Perché sono state accusate dalle persone che vanno in curva, che pagano il biglietto Non c'entrano niente con queste cose Però lo striscione esibito è un segnale di ammissione praticamente in quello che è stato Perché lo striscione, Beretta, la tua infamità non appartiene alla nostra mentalità Quasi uno striscione perché una persona ha deciso di collaborare Ma si sapeva che prima o poi, soprattutto lui che c'ha la cosa più pesante Che c'ha un omicidio sulle spalle C'era la possibilità che collaborava E se uno è pulito, e allora qual è il problema? Ma secondo voi, secondo voi adesso con questa cosa qua Stanno tremando soltanto quelli che vanno allo stadio O come ho sempre detto anche lei vi piani un po' più alti? Secondo voi Per quanto mi riguarda, io non sono uno che vado in curva Quindi a me di quello che facevano loro Sinceramente a me non me ne frega un cazzo Sono l'ultimo che posso dare giudizio a qualcuno Dato che anche io sono un pregiudicato Quindi sono l'ultimo Però se devo commentare Commentare da esterno A cosa è normale che una persona normale farebbe schifo Racket, magarinaggio, estorsione Cioè tante cose che col calcio non c'entrano un cazzo Dove viene infangato anche il nome di una curva di gente Che va per bene Che magari porta anche i propri figli In curva Perché vogliono trasmettere questa passione Per il Milan Perché fin quando si tratta di sfottò Fin quando si tratta di un tifo pulito Fin quando si tratta che devi andare allo stadio Senza che Nessuno si faccia male Almeno fisicamente Dove c'è soltanto l'umiliazione calcistica Va bene Però Stasera Siamo in live Ci sarà il report di Giletti Che voglio vederlo stasera Stasera Io da blogger E' giusto che vi commento questa cosa Me l'avete chiesto in tanti già su Instagram Mi avete mandato in mille sta foto qua Quindi era giusto commentarla Ma secondo voi La gente più in alto Non sapeva Secondo voi quanti poliziotti Stanno tremando adesso Che sapevano Si prendevano la mazzetta Per star zitti Gli avevano concesso Fino a un tot Superato quel tot C'è stato di mezzo un omicidio E guarda caso Che che adesso comunque sia Come dicono loro Va A cantare Va a infamare qualcuno Quello che rischia la pena più severa Ma è normale che ha fatto crollare lui il puzzle E adesso perché Comunque penso che una persona Ha 50 anni Ragazzi parliamoci chiaro Se ti propongono 30 anni di galera E magari te ne propongono 5 Adesso Ditemi Ditemi Che non l'avrai Che una persona normale non lo fa Ma è normale che lo faceva adesso Cioè di mezzo lui ha un omicidio sulle spalle Beretta c'ha un omicidio Secondo voi Io se mi diceva Secondo te collaborano Sì Sicuramente sì Non gli è mai fregato un cazzo dell'Inter Ha sempre fatto i suoi interessi Come gli stessi che fanno gli stessi interessi Che mettono quello striscione lì Perché sono quelli che Non gliene frega più un cazzo Della squadra Ma gli interessa soltanto Di monetizzare Il più possibile Per se stessi Però nel nome anche Di curva Tutto insieme Di anche che che va Viene infangato anche il nome Di che che va allo stadio Per bene Pagando le trasferte di tasca sua E questo non è giusto Eh non è giusto Perché se devi fare i tuoi cazzi Non è che vai a infangare Il nome anche di me Non me 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 in generale Di una persona che va allo stadio E che ci va correttamente Che non Non va per altri sporchi motivi Questa non è una cosa giusta Ma si sapeva Si sapeva che è crollato il puzzle Se crolla uno Che è in alto Quello automaticamente Viene giù tutto Viene Ma non soltanto In questa vicenda Nella vita proprio Quando iniziano gli arresti A trarre Adesso chissà quanti Preparatevi Perché di arresti Ce ne sono stati 14 Ecco questo qua è soltanto Un antipasto Perché se veramente Vanno fino in fondo Se veramente Vanno fino in fondo Guardate che Arresteranno Non soltanto Quelli dello stadio Ma arresteranno Quelli in giacca e cravatta Non soltanto Quelli che vanno allo stadio O polizioti No arresteranno Anche tanta gente In giacca e cravatta Segnatevi le ste parole Se veramente Vanno in fondo Che vanno a vedere Che ci ha mangiato Che ha permesso Che ha chiuso mille occhi Per fare i propri interessi Che non ha fatto rispettare La giustizia Che invece doveva essere Quello che la faceva Rispettare agli altri Che non l'ha rispettata In primis lui Preparatevi Perché stasera Andiamo a vederci Il servizio Che sono veramente Curioso E comunque Quello striscione Della curva dell'Inter Lo commento Con due parole Si sapeva Punto esclamativo Soprattutto Se c'è una condanna Molto pesante Perché la storia Che è stato disarmato E sparato di Beretta Non l'avevo bevuta Io neanche Neanche il primo giorno Che c'è da fuori L'avevo detto anche in live Poi naturalmente Non ero lì Non so nessuno Per giudicare Ma dubito Che uno alto 1,90 Conoscendo Beretta Da quando ero giovane Si fa disarmare Da un ragazzo Morto Quindi non si parla Dei morti Ci mancherebbe altro Si fa disarmare Da uno Che la metà di lui L'avevo sempre detto Dall'inizio Che rischia una condanna Molto pesante E sto rischio C'era Sto rischio c'era E Chi è che deve Pagare le conseguenze E parlate con uno Che sta facendo Sta pagando una condanna Del 2017 La sto pagando Se fai qualcosa Di sbagliato Per la giustizia Ragazzi Consapevole O non consapevole La paghi Ci vediamo dopo Tra poco in live Fra Neanche un'oretta All'ora 21 Entriamo in live Poi guardate Se resistete Adesso vediamo Se riusciamo a vedere Anche Se non va troppo in live Servizio di Giletti Stasera voglio vederlo Che parla delle curve Quindi Vi aspetto Vi aspetto In live Che ne parliamo Di questa cosa qua Naturalmente Non diamo Io non do A me Da anche un po' Fastidio Parlare di questa cosa qua Perché sto scontando Una pena Quindi sull'ultimo Che devi giudicare gli altri Però Giustamente Sono un blogger Ed è giusto parlarne Ci vediamo tra poco Ciao a tutti